occhi puntati sulla roma stadio olimpico a torino undicesima giornata di serie a torino roma si gioca a 11 gradi ore 20 e 45 prevista pioggia il torino è in reduce dal pareggio per 3 a 3 al divorno e dalla sconfitta con il napoli la roma in reduce da 10 vittorie consecutive in serie a e vediamo quindi le posizioni della e delle classifiche il torino è al dodicesimo posto con 11 punti la roma punteggio pieno 30 punti e vediamo le formazioni il torino di giampiero ventura scende con padelli lì che loro tighez in campo moretti gazzi fernerò darmian bellomo d'ambrosio cerci e immobile la roma di garzia ci risponde con de santis in porta maicon benatia pur disso balzaretti dei rossi pianice strotma gervinio florenzi borriello quote scommesse la vittoria del torino è quotata 4 25 4 24 il pareggio intorno ai 3 25 3 40 3 40 e snai quota 1 e 90 la vittoria della roma come anche bet e click e bwin a 1 87